Buon salve e bentornati su No Mamamazzo, più precisamente su No Mamamazzo di Terra 38. Finalmente è giunto il tanto fatidico crossover televisivo di Crisi sulle Terre Infinite. Il crossover più atteso tra i vari crossover dell'Arroverse, l'universo televisivo che comprende i telefilm di Arrow, Supergirl, Flash, adesso anche Batwoman, Legends of Tomorrow, Constantin volendo perché hanno inglobato anche quello, di cui abbiamo parlato tempo fa in quello che attualmente è il video più visto del mio canale, per questo vi ringrazio molto ed è per questo che farò un video per ogni singolo episodio di questo crossover. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un bel mi piace a questo video e agli altri che vedrete, a commentare quello che volete riguardo questo primo episodio del crossover, perché poi negli altri episodi farò altri video, e di condividere il video con tutte le persone che conoscete che possono essere interessati a questo argomento. Il primo episodio del crossover parte dal telefilm Supergirl, per questo indosso la maglietta. è la quinta stagione, episodio 9, si intitola proprio Crisi sulle Terre infinite, è un crossover, se non siete avvezzi all'Harrovers, i crossover dell'Harrovers si piantano proprio all'interno delle singole stagioni, non sono come per esempio Defenders della Marvel che hanno preso i personaggi di varie serie televisive, e le hanno unite in una serie televisiva a sé per fare un crossover. Qui no, qui il crossover è un tie-in, cioè un episodio all'interno della serie regolare. Qual è la differenza? Beh, per esempio che nell'Harrovers, proprio per questo motivo, proprio perché l'episodio è parte integrante della stagione, non si dimenticano di quello che sta succedendo nella stagione. Quindi noi, se stiamo guardando un episodio di Supergirl, l'ambientazione è tipicamente e principalmente quella di Supergirl. In questo caso proprio l'episodio è ambientato principalmente in Terra 38, che è la terra di Supergirl, di Superman, di Tyler Oeching, di Martian Manhunter, e soprattutto vediamo che le trame che si sono sviluppate negli episodi precedenti di questa stagione vengono quantomeno levemente toccate anche in questo episodio. Ma come inizia questo crossover? Inizia nel migliore dei modi e nel più classico dei modi, ovvero con il Big Bang. C'è una voce narrante che spiega come all'inizio era tutto nero, e dopodiché ci fu un'esplosione che generò il multiverso, quindi non un solo universo, ma più universi. E mentre questa voce narrante prosegue, ci racconta di come nel multiverso siano presenti vari eroi, vari paladini della giustizia che si ergono contro le forze del male, l'occhio di noi spettatori ci cade su alcune terre in particolare. Si parte alla grande con Terra 89. Mi fa molto piacere che usino l'anno di uscita del media a cui si riferiscono, così come hanno fatto con Supergirl, perché anch'io l'ho fatto nel mio precedente video. Infatti ho azzeccato anche qualche nome di qualche terra per ora, poi vedremo nei prossimi episodi se il mio pronostico si è rivelato azzeccato. Quindi in Terra 89, di cui nell'altro video non avevo ancora parlato perché non avevano ancora introdotto questa possibilità, vediamo la sigla innanzitutto tipica del Batman di Tim Burton, perché Terra 89 si riferisce alla saga cinematografica del Batman di Burton, e vediamo che c'è un bat segnale e la sigla appunto tipica di quella fatta da Danny Elfman dei film. Il bat segnale però non è il bat segnale che abbiamo visto nell'89, sembra molto più simile al bat segnale di Batwoman. non so se è un errore o se sono stati così arguti da modificare il bat segnale in modo che fosse quello di Batman from the future, che ha un logo molto simile a quello di Batwoman, perché appunto è Terra 89 ma siamo nel presente, quindi dall'89 ad oggi sicuramente quel Batman potrebbe essere andato in pensione e potrebbe esserci il Batman from the future. Vediamo una persona seduta su una panchina che sta leggendo un giornale che dice Joker cattura Batman con un'immagine in cui è disegnato proprio il Batman di Burton, però già questo è un errore perché Joker di Terra 89 è morto nel primo film di Batman, quindi potrebbe essere un altro motivo per cui potrebbe essere un future Joker catturato da Batman from the future. La persona che sta leggendo il giornale, abbassa il giornale, e si rivela essere Alexander Knox, il personaggio creato ad hoc per il film Batman del 1989, il giornalista che faceva diciamo la linea comica prima che nascesse il Joker, anche se non si può parlare di Joker come linea comica, però diciamo che era la spalla comica di Vicky Vale, la protagonista femminile di Batman dell'89. Se non avete visto Batman dell'89 vi metto qua il mio link alla recensione e poi andatevelo subito a vedere, è su Netflix, è persino l'hanno fatto su Italia 1 l'altro giorno, è su Prime, lo trovate ovunque. Magari vi metto anche il link in descrizione così ve l'ho acquistata in Blu-ray che merita tantissimo. Poi vediamo un attimino la terra dei Titans, che appunto quando ho fatto il video l'altra volta sembrava che non li avrebbero più inseriti, invece poi sono riusciti a inserire proprio un attimino velocissimo in cui il Robin, il secondo Robin, Jason Todd e uno dei due supereroi che non so se si chiama il Falco o qualcosa del genere, quello bianco, il Falco e la Colombo, una roba così, si vede che guardano una luce che li abbaglia per mezzo secondo e finisce lì. Dopodiché, e qui ho azzeccato il nome della terra, vediamo Terra 66, con la tipica sigla di Batman del 66, il telefilm con Adam West e Bart Ward. Bart Ward, che lo vediamo appunto invecchiato, non fa altro che portare a spasso il cane, vestito con un maglioncino rosso, forse per ricordarci che lui è Robin, guarda il cielo che diventa rosso, perché è questo il segnale che la crisi sta arrivando, e fa la sua tipica esclamazione inglese, cioè Holy Red Skies, bla bla bla, che noi in italiano traducevamo con un per tutti i cieli rossi, non diceva santi i cieli rossi, diceva per tutti questa cosa qua. Quindi non so se lo tradurranno correttamente anche nella puntata, però il fatto sta che questa era la tipica espressione del Robin di Batman di Adam West. Anche queste comparsate, diciamo, se le sono levate dalle balle in fretta, perché sono proprio state delle comparsate minime. A parte queste comparsate, per il resto dell'episodio non si fa altro che reclutare gli eroi delle varie terre che noi conosciamo, quindi Batwoman, Arrow, Supergirl, Flash e così via. È molto importante, se non l'avete fatto, io per esempio non l'ho fatto e me lo sono dovuto recuperare, che abbiate seguito anche le prime puntate dell'ottava stagione di Arrow, perché noi iniziamo il crossover sapendo già dei fatti che avremmo conosciuto molto meglio se avessimo visto le prime puntate di Arrow dell'ottava stagione. Innanzitutto Laila è, in realtà, è sempre stata, appare in realtà, Harbinger, o Arbinger, scusate la pronuncia, che è questo personaggio qui, che è il personaggio che appare dal nulla, lavora per Monitor e recluta i vari eroi dalle varie terre. Questa Laila la conosciamo nella puntata 8.1-8.2 di Arrow, quindi dell'ottava stagione. Nella prima puntata dell'ottava stagione di Arrow scopriamo un'amarissima, amarissima verità, ovvero che Terra 2, la Terra 2 che abbiamo conosciuto per la prima volta in Flash, è stata già spazzata via. Quindi questo significa che il mio Harrison Wells preferito, quello di Terra 2, è stato spazzato via dall'esistenza. Già aveva i suoi grossi problemi perché aveva perso totalmente l'intelligenza e non solo, stava praticamente entrando in demenza dopo che aveva usato troppo un'apparecchiatura cerebrale per sconfiggere il pensatore Tinker. Era tornato nella sua terra per stare vicino a sua figlia, ma è stata spazzata via questa terra. Quindi anche Jesse Quick, salvo che non si trovasse su Terra 2 in quel momento, è stata spazzata via. Peccato, peccato, perché erano due personaggi che mi piacevano tantissimo, anche se appunto Harrison Wells era già stato privato della sua mente, della sua personalità nella quarta stagione di Flash. Nell'episodio vediamo appunto i vari eroi che combattono questi araldi dell'Antimonitor in una battaglia che non ha un grosso peso emotivo, si vede solo una scusa per mostrare tutti i personaggi in combattimento. La cosa però più emotiva, più importante di questo combattimento è che serve per mostrare il sacrificio di Green Arrow. Come avevo detto nell'altro video, molto probabilmente Green Arrow ci avrebbe lasciato le penne perché appunto Green Arrow è arrivato all'ottava stagione, questa stagione la vogliono chiudere, quantomeno perché sono andati avanti molto, il cast è cambiato quasi totalmente. Comunque, diciamo, la stavano tirando un po' per le lunghe, ma soprattutto Green Arrow è il personaggio che ha lanciato tutto, è il personaggio più carismatico dell'Hurroverse, da cui appunto prende il nome, non solo perché è partito per primo, ma perché è quello che pur non avendo poteri, è quello che ha più risorse, è il punto di riferimento per gli altri eroi delle varie terre che lo hanno conosciuto. Praticamente è Batman, senza essere Batman questo Green Arrow. Anche perché in questo multiverso, scusate, in Terra 1, Batman non si è ancora visto. Solo che non mi aspettavo che Green Arrow morisse già nel primo episodio del crossover, mi aspettavo che morisse quantomeno nell'episodio che fa parte della serie Arrow di questo crossover, non nell'episodio di Supergirl. O mi sarei aspettato che morisse alla fine del crossover, che dovrebbe essere l'ultima puntata in Legends of Tomorrow, e invece muore subito. Forse perché questo ci darà più episodi per commemorare la sua morte. E quindi da questo punto di vista posso anche capirlo. La sua morte non è una morte del cavolo, nel senso che arriva troppo in fretta, quindi non ce ne accorgiamo, però si sacrifica per salvare tutte le persone di Terra 38 che sono state evacuate con delle navi multidimensionali, come quella appunto del Legends, e sono state praticamente trasportate su Terra 1. Cosa ha fatto Green Arrow? Green Arrow si è rifiutato di essere teletrasportato da Monitor, per questo dico, lui che non ha superpoteri ha comunque tutti i gadget, tutti i trucchi per combattere anche un'entità come Monitor, quindi si rifiuta di essere teletrasportato da lui e con una freccia gli impedisce di essere teletrasportato per poter guadagnare tempo, in modo che questo esodo da Terra 38 vada a buon fine, e in questo modo guadagna dei minuti preziosi, questi minuti preziosi significano circa un miliardo di terrestri di Terra 38, quindi lui sostanzialmente si è sacrificato per un miliardo di persone che non sono nemmeno della sua Terra, per degli sconosciuti, se così vogliamo dire, degli alieni, se così vogliamo dire. Questo è stato il suo ultimo sacrificio, lo vediamo scagliarsi con questi strani fantasmi neri che sono gli scagnozzi dell'Antimonitor, e poi Monitor teletrasporta il corpo quasi esanime di Green Arrow dai suoi compagni di armi per un ultimo saluto. L'ultimo saluto parte da Sarah Lance, con cui è partito tutto fondamentalmente, per poi soffermarsi sui suoi discendenti televisivi, ovvero Flash e Supergirl, che sono i supereroi con cui ha condiviso più avventure, che hanno una serie principale, quantomeno, per poi finire giustamente con sua figlia, sua figlia che è già adulta, e poi se seguite Arrow lo sapete meglio di me, se non seguite Arrow andate a recuperare il motivo per cui c'è questa figlia adulta che viene dal futuro, ma vabbè, tant'è. E quindi ha questo momento con sua figlia, che appunto ha già le sue capacità, diciamo, di arciere, che chissà se porterà avanti appunto il suo retaggio. Si parla appunto di uno spin-off, da Aglie con le varie Canaries, con questa probabilmente con la figlia di Green Arrow, però non lo so, perché appunto volevano proprio chiudere la serie di Green Arrow e avevano lanciato Batwoman per questo motivo, per occupare il vuoto lasciato da Green Arrow, parlano adesso invece anche di uno spin-off. Ma a noi non ce ne frega niente, ci focalizziamo sul crossover. Il crossover, il primo episodio, mi è piaciuto, ma mi aspetto molto di più dagli altri episodi. Spero di non rimanerne deluso. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere. Scrivetemi qui sotto nei commenti. Io adesso, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vado a vedermi il secondo episodio. Riposa in pace, Green Arrow. Riposa in pace, Terra 2. Riposa in pace, Terra 2.